signor e signore, campagna più giusto! che sono? che stagia? la meccorre, signor! allora, la meccorre, la meccorre, signor! signor! che stagia? non è che stasso? non è che stasso? non è che stasso? non è che stasso? come andiamo? ho sei che stasso? in serio? si? si, no sei che stasso? non, no, no no, no stasso? 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 non è che stasso? prima della rughe avanti davanti fa un momento molto magico e per mis guditi, anche poteva canzioni che si hanno a vera con la vida di Sandro o meglio di che siano a vero con la mujer Peres de Santo. Peres de la musica. Acaba di accompagnare a tutti. Orgando Nuestra Pereira Orgando 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti